Convegno internazionale sui tappeti erbosi e di prati urbani, qui alla Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige, l'occasione per parlare, per discutere dei temi più importanti e delle idee più innovative che riguardano questo comparto. Siamo con l'organizzatore Adriano Altissimo. Quali temi affrontati durante questo incontro? L'incontro affronta i temi della gestione e manutenzione dei prati urbani, dei tappeti erbosi, nell'ottica di una riduzione delle risorse, degli input energetici, di lavoro ed economici e nell'ottica della sostenibilità e della stabilità di queste superfici urbane importanti per la qualità delle città. Ricordiamo quali sono i principali utilizzi dei tappeti erbosi e quali caratteristiche devono avere? I tappeti erbosi vengono utilizzati per i parchi urbani, per i giardini, per i campi sportivi, per il consolidamento di scarpate, piste da sci, discariche, autostrade, vie di comunicazione e quindi hanno scopi diversi da quelli della produzione di foraggio e tutti scopi protettivi o ludici o ricreativi. Le loro caratteristiche principali devono essere la persistenza, la stabilità nel tempo e la facilità nella gestione, ovviamente. Ricordiamo quali sono gli enti organizzatori e chi ha patrocinato questo evento? L'evento è organizzato da ITS, European Turf Grass Society, è un'associazione no profit europea che ha come scopo statutario quello di promuovere la cultura e l'innovazione nel mondo dei tappeti erbosi patrocinato dalla fondazione stessa, dalla provincia di Trento e dal comune di Riva del Garda con un grosso sostegno organizzativo per questo evento. Possiamo dire quale sarà il tappeto erboso del futuro? Quello che noi immaginiamo è un prato, un tappeto erboso che richieda il minimo possibile di interventi nostri per il taglio, la concimazione e l'irrigazione, che sia in grado di persistere e permanere dove viene costituito per lungo tempo che non domandi prodotti chimici per la sua cura, che faccia la sua funzione il più a lungo possibile con il minimo di risorse impiegate possibili. Franco Frisanko, coordinatore dell'alta formazione professionale nel settore del verde parliamo di questa figura del tecnico del verde e di questo evento che si svolge oggi qui a San Michele all'Adige. Certo, premetto che l'Istituto Agrario, oggi Fondazione MAC, da più di 130 anni si occupa di istruzione, formazione, ricerca e divulgazione in campo agricolo, forestale e ambientale. Recentemente si è aggiunta la formazione nel campo, nel settore del verde ornamentale, del verde urbano con un corso post diploma di alta formazione professionale. Nell'ambito, oltre alla formazione, in parallelo a questo, si sono sviluppate una serie di iniziative, di piccole sperimentazioni, ad esempio sui tetti verdi e anche di convenistica, come è l'appuntamento di oggi, appunto sui tappeti erbosi, perché i tappeti erbosi fanno parte di quel grande comparto che è appunto il verde ornamentale, il verde urbano. Il tecnico del verde sarà dunque chiamato a realizzare anche questi tappeti erbosi? Certo, si occuperà alle competenze professionali per occuparsi anche di questo ambito, di questi tappeti erbosi che, come si vedrà nel convegno, hanno diverse problematiche, da quello delle specie più adatte per i vari ambienti, da quello delle tecniche gestionali, a quello delle tecniche realizzative e così via.